Sicuramente quello che circola è un qualcosa di abbastanza clamoroso ed effettivamente dopo che qualche settimana fa Paul Pogba era andato a Lausanna per fare la sua deposizione in difesa nel merito di quella che era stata la squalifica di quattro anni che gli era stata data, pare che sia giunto un esito che vede una riduzione della squalifica da quattro anni a diciotto mesi e nel momento in cui appunto lui praticamente questa squalifica l'ha iniziata un anno fa sta a significare che nel 2025 Paul Pogba diventa a tutti gli effetti un giocatore abile e arruolabile per la Juventus Football Club. Per la precisione da quello che si dice almeno a partire da gennaio potrà riniziare a fare gli allenamenti con la squadra perché è giusto ricordare che a differenza di ciò che era capitato con Nicolo Fagioli, Paul Pogba durante il suo periodo di squalifica non ha mai potuto allenarsi alla continassa né singolarmente né con il gruppo a differenza di Nicolo Fagioli, anche perché le cause, le motivazioni che hanno portato alle rispettive squalifiche vien da sé fossero abbastanza differenti. E a partire dal mese di marzo il giocatore diventa a tutti gli effetti un giocatore a disposizione per Tiago Motta e a tutti gli effetti un giocatore abile e arruolabile per la Juventus Football Club. E come prendo questa decisione da tifoso? Beh, innanzitutto parto dal grandissimo presupposto che molto banalmente ne prendo atto, punto, perché comunque non è una banalità neanche quella cosa lì. Poi da un punto di vista strettamente umano mi fa enormemente piacere che il giocatore non ha dato fine alla sua carriera in quel modo che sarebbe stato molto semplicemente indegno, non giriamoci troppo attorno e che comunque è riuscito, mi viene da pensare in un qualche modo a far valere le proprie ragioni, se di fatto la squalifica è passata, cos'è, da un anno, da quattro anni a un anno e mezzo a grandi linee, penso che la durata sia più o meno quella lì. Ebbene, poi dopo c'è magari l'aspetto legato al punto di vista della Juventus, perché intanto partiamo da una grandissima banalità. È pur sempre giusto ricordare che quando si parla di Paul Pogba si parla di un giocatore che probabilmente non fa 90 minuti all'interno di una partita, praticamente da aprile 2022 dovrebbe essere in linea di massima quella lì, la data dell'ultima partita dal primo all'ultimo minuto di Paul Pogba. E viene da sé che se mi si parla di aprile 2022 e marzo 2025, quando il giocatore potrà essere abile e ruolabile, si parla fondamentalmente di tre begli annetti. Insomma, annetti ricolmi di un anno e mezzo circa di squalifica, dove appunto non si è mai allenato con la squadra, quindi di minuti effettivi nelle gambe, penso ce ne siano veramente, ma veramente molto pochi, e soprattutto l'altra parte, dove a tutti gli effetti era abile e ruolabile, è stata ricca di problemi fisici. Il Pogba è stato di fatto un fallimento su tutta la linea, visto che un anno, una stagione l'aveva saltata per squalifica, era l'altra invece per infortunio. Anche quando la Juventus l'aveva riprelevato, veniva da un'altra stagione ampiamente travagliata, appunto da marzo a luglio, dove poi è ritornato a Torino, e soprattutto un altro aspetto non proprio del tutto banale, se ci andiamo a pensare, Pol Pogba prende 10 milioni netti. E ribadiamo, un giocatore che non gioca 90 minuti da tre anni, viene da un anno e mezzo di squalifica, e l'anno e mezzo precedente, sempre infortunato. Quindi, se guardiamo magari quelli che sono i conti per la Juventus, io non so sinceramente quanto abbiano preso particolarmente bene l'esito di questa scelta da parte del Tasso, di chi che sia. Insomma, e comprensibilmente, d'altro canto però purtroppo si potrebbe anche dire, in una maniera molto banale, chi è causa del suo mal pianga a se stesso. D'altronde, quel contratto lì non è che è stato deciso e firmato unilateralmente. Evidentemente, se fino al 2026, quel che sarà Pol Pogba, ha un contratto con la Juventus, evidentemente è perché la Juventus ha offerto quel contratto a Pol Pogba. Poi, certo, indubbiamente non si parla di questa Juventus qui, vedendo che al tempo il presidente non era Ferrero, l'amministratore delegato non era Scanavino, il direttore sportivo non era Cristiano Giuntoli e l'allenatore non era Tiago Motta. C'era anche Manna, per dire, dato che abbiamo fatto un elenco di nomi, ora direttore sportivo del Napoli, e c'era Cherubini. Quindi, insomma, per carità, poi, anche qui, Pol Pogba adesso si ridurrà lo stipendio, quantomeno mi auguro quello, evidentemente, evidentemente, no? Perché mi pare che con questa scelta non si può neanche optare per il licenziamento per giusta causa o quello che è. Non penso rientri nelle tempistiche una squalifica di questo genere per quel fine nello specifico, ma mi potrei sbagliare anche perché è stata una sorta di botta, c'è il sereno questa qui. Però mi auguro, almeno, ci possa essere quel raziocinio tale da ripresentarsi a tutti gli effetti all'interno di una nuova Juventus, bene o male in punta di piedi, perché veramente, se poi continua ad esserci la pretesa di prendere il 100% dello stipendio fino alla naturale scadenza del contratto, certo, fino a prova contraria, fai anche fatica a dirgli di no, vedendo che c'è un contratto che penso sia pure abbastanza vincolante, indubbiamente. Però neanche la cosa più bella e più semplice del mondo, vedendo soprattutto la linea che ha deciso di intraprendere la Juventus a livello di abbattimento dei costi, a livello di futuribilità, a livello di funzionalità, perché poi si deve inevitabilmente toccare pure questo tema qui. Perché comunque, certo, per quanto ripensando al Pol Pogba di dieci anni fa si possa dire beh, questo probabilmente anche al 60% giganteggerebbe all'interno di questa Serie A, purtroppo ci sono dei trascorsi anche relativamente recenti che sinceramente a me non mi fanno propendere verso questa direzione, detto in totale onestà, posto che per l'amor di Dio anch'io penso, sotto un certo punto di vista, che un Pol Pogba, come me lo ricordo, al 70% farebbe estremamente comodo, ci mancherebbe altro. Ma Pol Pogba tornerà quantomeno alla Juventus ad essere al 70% di quelle che sono tutte le qualità di Pol Pogba? Sinceramente io penso di no. Sinceramente mi viene molto difficile pensarlo, soprattutto se pensi che in particolar modo in questa sessione di calcio-mercato qui nello specifico, cavoli, ha investito una roba come 130 milioni per il centrocampo, tra che Frenturam, Douglas Luiz, Theon Kopmaners, poi certo, averne uno in più non fa mai male, lì siamo tutti quanti d'accordo e ci mancherebbe. Il problema è che quell'uno in più non è il giocatore che vai a prelevare dalla next gen estremamente futuribile, estremamente talentuoso, che prende due spiccioli come stipendio. Si parla di un giocatore Clash 93, che per ragioni differenti di fatto non fa una partita intera da tre anni, che non si allena con un gruppo che ritroverà anche completamente nuovo da un anno praticamente, che diventerà quasi un anno e mezzo a partire da gennaio quando potrà finalmente tornare ad allenarsi e che soprattutto prende dieci milioni. E quindi, sotto certi punti di vista sono giorni che proprio ti arrivano delle belle botte lato Juventus, tra infortuni, tra dover tornare a sborsare dieci milioni di stipendio completamente a caso, dove quasi davi per certo, che non l'avresti più dovuto fare con potenzialmente la possibilità di licenziare per giusta causa e invece è così e vedremo insomma come e se soprattutto Giuntoli riuscirà a fare un'altra cucinata delle sue per cercare per quanto possibile almeno di di placare l'aspetto economico e i risvolti dal punto di vista economico da questa decisione qui. Però fondamentalmente soprattutto a caldo è questo che vi sento di dire. Voi ragazzuoni fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve!